è uscito il capitolo 1127 di one piece e ho sentito recensioni entusiastiche grandi parole tante cose belle per i ciroda però io ci andrei un po con i piedi di piombo questo perché mi è sembrato di vedere delle cose che non tornano proprio perfettamente poi io ho una mia idea su ciò che sta accadendo all'interno di questi capitoli chi segue live sa che già settimana scorsa secondo me mi è parso di capire che i personaggi in questo momento sono forse vittime di un test probabilmente sono comunque prese da una forza esterna probabilmente che può essere anche lochi e poi dopo cercherò con un piccolo ragionamento non di convincervi che si tratti di lochi quelle che ha portato i mugiwara lì ad elba che secondo me sono già ad elba ma più che altro per far vedere che ci sono comunque dei punti di contatto tra le cose che potrebbero essere pure casuali però siccome oda mi pare che sia un autore che fa bene i compiti a casa ci sono effettivamente degli elementi qua e là nel capitolo che potrebbero dare ragione proprio al mio pensiero ma tralasciando questo ci sono comunque delle cose all'interno del capitolo che non mi sono piaciute tanto perché potrebbero essere tanto degli errori quanto qualcosa che in realtà in qualche modo corrobora il mio ragionamento di nuovo però non vorrei essere rimasto vittima di una profezia autoavverante che io vedo delle cose e continuo a convincermi che sta andando nella direzione dove penso debba andare oda e questa serie di capitoli naturalmente perciò mi limito in certo modo a osservare i fatti mostrarveli dirvi quello che non mi piace del capitolo perché ci sono delle cose che secondo me sono proprio strane altro che spararle grosse belle per i cirota devo dire la verità però invece ce ne sono altre che secondo me sono piuttosto interessanti su cui riflettere soprattutto sulla mitologia norrena quando poi ci sono questi elementi io ci sguazzo sempre tanto e poi tutto il capitolo è molto divertente questo sì tanti design sono molto carini perché comunque giustamente ricordano vicky il vichingo che poi l'ispirazione cardine per tutta one piece per eciroda perciò quando ci sono queste cose qua sono sempre belle da vedere in ogni caso ma perché il capitolo poi non m'ha convinto e ci arriviamo ci arriviamo intanto mettiamo sul piatto della bilancia degli elementi vediamo quanto pesano e se possono in qualche modo davvero dare ragione a quello che penso oppure no la prima cosa di cui si parla all'interno di questo capitolo è yggdrasil ovviamente yggdrasil all'interno della mitologia norrena è importantissimo perché si tratta dell'albero cosmico l'albero del mondo che potremmo considerare come fonte di vita delle acque eterne l'albero che dà la vita ma anche fonte del sapere e l'origine della sapienza di odino naturalmente la fonte del destino sappiamo che le radici o comunque tutto intorno all'albero di yggdrasil che è un frassino ci sono tutta una serie di animali c'è il serpente sotto che ne mangia le radici ma ci sono anche vari lupi altre creature che in qualche modo anticipano mangiando l'albero il ragnarok poi ci sono sulla sommità dei cervi e anche il gallo che quando canterà annuncerà la fine degli dei ci sono scoiattoli insomma tanti animali più o meno grandi o più o meno fantastici che vivono tutto intorno a yggdrasil e questo già è interessante perché è una cosa che molto probabilmente vedremo e forse le creature che vediamo all'interno del capitolo probabilmente vengono da lì viene tirata in ballo la grande divinità solare attenzione non si tratta di mica viene questo specificato anche nelle traduzioni fatte dai fan non si sta parlando di mica il dio del sole ma della divinità solare in questo posto che io credo sia elba ma comunque potrebbe potrebbe pure essere un altro posto ma si tratta di qualcosa che ha un'ispirazione forte di origine norrena c'è questa divinità solare io immagino che possa essere sol la dea del sole figlia di mondilferi e moglie di glenr una divinità o comunque un personaggio che fa le veci di una divinità ok cioè magari come ener che era considerato un dio anche questo personaggio la divinità solare considerato un dio magari non lo è nelle sue parti insomma non è tipo umano come tanti altri personaggi di one piece però assolve questo ruolo mettiamo da parte questa informazione perché forse è ancora presto per giungere da qualche parte mentre c'è un piccolo cataclisma all'interno di questo posto dove ci sono credo dei giganti che non sembrano tanto giganti perché disegnati vicino alle case fatte di lego sembrano in scala quindi forse non sono proprio giganti ma le creature sono giganti cioè piovono delle api che sembrano enormi gigantesche e vengono chiamate sting mole poi c'è anche una traduzione con gli ideogrammi che significa api soldato ecco questa cosa mi ha fatto accendere un campanello perché proprio le api soldato cioè poteva essere qualsiasi altro animale svolazzante qualsiasi altro insetto ma c'è un personaggio nella mitologia norrena che si chiama bilster qualche volta anglicizzato pure come bileist che è conosciuto come il camminante tra le api si intende che fa l'apicoltore e sapete chi è questo personaggio è uno dei fratelli di loki mo ripeto potrebbero essere solo dei riferimenti perciò le cose che dico a me stesso le prendo con le pinze figuratemi quello che voglio dire a voi prendete con le pinze pure queste cose qua però intanto è un'altra informazione che prendiamo e mettiamo da parte nami si risveglia in questo castello fatto di lego viene inseguita da un riccio gigante ora animali giganti nel mondo di one piece ne abbiamo visti tanti pensiamo anche soltanto ai mostri marini che sono enormi ma in generale anche che ne so il serpente nel nell'isola di boa per dire divinizzati come pure questo animale con le orecchie lunghe un coniglione qui sull'isola che viene sconfitto dai mugiwara cioè insomma potrebbero essere tutti provenienti da questo posto gli animali giganti nel mondo di one piece ma questa potrebbe essere un'ipotesi interessante in qualche modo si sono spostati non lo so se è così oppure no ma intanto potrebbe essere divertente rifletterci sopra però cosa mi preme sottolineare che quando nami si risveglia comincia a scappare trova usop e insieme tutte e due cercano di fuggire da questo gatto gigantesco e poi dopo diventa un leone ora cosa succede mentre nami attacca l'altro animale poi si rialza poi corre e aiuta usop c'è una cosa e quando l'ho visto ho detto ma boh è strana sta roba perché in alcune vignette lei sulla schiena non ha nulla mentre in una c'ha una spada e questa cosa qua boh non mi torna usop a un certo punto si ricorda quello che è stato detto nel capitolo precedente cioè abbiamo bevuto una bevanda che dà allucinazioni è l'assenzio quindi usop quasi pure lui si vuole convincere dice forse questo gattone è solo un'allucinazione mentre usop corre a una borsa e in altre vignette la borsa sparisce eppure questa roba qua mi ha fatta a mattire perché sono delle cose che oda si è dimenticato di disegnare oppure oda sta cercando di dirci e sì questa è un'allucinazione ma se fosse un'allucinazione perché vediamo anche il punto di vista di altri personaggi che dovrebbero essere i giganti non giganti o comunque vichinghi va che vivono all'interno di questo sistema peggio ancora quando appare luffy perché luffy usa il gear third e lo chiama gear fort strano è un errore è un errore voluto c'è un errore grave vuol dire che non stanno riflettendo bene non stanno controllando bene questo capitolo e luffy quando da il calcio a questo leone gigantesco sulla schiena non ha niente poi lo vediamo su una in una vignettina che ha una spada poi c'è la zoomata su di lui e non è una spada ma è un'ascia cioè si è trasformata da una vignetta all'altra prima non c'aveva niente poi c'è una spada poi c'è un'ascia allora o oda ha disegnato queste vignette in momenti completamente diversi oppure ci hanno lavorato le persone in maniera completamente slegata oppure oda ci vuole dire di nuovo che questa è un'allucinazione ma ripeto se è un'allucinazione perché vediamo quello che fanno altri personaggi non dovrebbe essere un'allucinazione che riguarda soltanto i mugiwara che hanno bevuto la fata verde l'assenzio e allora questa cosa mi fa ammattire ragazzi perché se sono degli errori sono degli errori gravissimi perché non stanno controllando assolutamente niente del capitolo e anzi è strano che non li si fanno dare questi problemi per il resto costruzione del capitolo molto divertente devo dire che mi è piaciuto è tutto molto rocambolesco gli animali disegnati un disegnato in modo molto divertente c'è anche una bella citazione al capitolo 126 di one piece ritorniamo indietro nel tempo è molto molto facile secondo me intuire il perché di tutto questo è un capitolo di ala basta e siccome ormai secondo me la preproduzione della seconda stagione di one piece netflix è bella avanzata e ciroda si sta ripassando un po tutto per vedere che cosa deve succedere cosa non deve succedere forse è rimasto infognato da quel momento e ha ridisegnato più o meno in maniera identica la scena con luffi zoro e sanji che attaccano contemporaneamente una creatura con più o meno le stesse pose che aveva fatto ormai quasi vent'anni fa credo non mi ricordo bene però sono diciamo quasi quasi identiche le due vignettone bello bello divertente in generale un capitolo sì che è molto divertente però che mi fa tanto riflettere e sognare molto quanto anche un po incazzarmi perché se questi non si riveleranno essere degli indizi per le allucinazioni ma solo degli errori sono degli errori grossolani enormi senza senso quindi però ripeto non voglio convincervi che ci sia davvero la mano di loki dietro tutto questo anche se ci sono animali che si trasformano gatti che diventano leoni cose strane che succedono armi che appaiono e scompaiono potrebbero essere dimenticanze di oda se fossero così ripeto è veramente fuori tutto questo ma vabbè fatemi sapere voi che cosa ne pensate perché chiaramente non sto parlando solo io e sto riflettendo pure su certe cose della mitologia norrena che magari non ci porteranno da nessunissima parte ma secondo me era interessante fare un appunto del genere ripeto aspetto i vostri commenti qua sotto mi raccomando scrivete scrivete scrivete